Bella Wolfini e bentornati nel LongWolf.2 Channel Siamo raga tornati con una serie strepitosa Perché c'è anche un ospite, come dire, già lo conoscete però raga Un ospite sempre particolare, molto importante Chi sei, chi sei? Molto bello l'hai detto nell'intro E allora non vale se non sei molto bello Non vale? Molto, molto, molto bello Molto bello Ciao raga È tornato con noi J-Ron, signori, detto Just Siamo pronti per ricominciare col due contro due, tu sei carico Io ho un botto, zio, un botto Allora, abbiamo deciso, regà, di prendere il Barcellona Perché effettivamente il Barcellona è uno squadrone Però entrambi quest'anno, senza skill, non siamo più le stesse persone Eh, FIFA ci ha deciso di rovinare la vita in questo senso Quindi ci tocca normalmente giocare come le best competitive Prima partita che facciamo insieme Quindi regà, siamo scusati se perdiamo Noi mettiamo le mani avanti Mettiamo le mani avanti No, veramente, l'anno scorso abbiamo fatto un bel po' di prove Abbiamo trovato il nostro feeling Adesso dobbiamo rimanere con i ricordi dell'anno scorso È vero, la rovesciatona Comunque Lone Wolf è il più forte giocatore del mondo E può giocare anche da solo e non perderemo mai, no? Ecco, allora, c'è la tirata Io metterei difensivo, bravo Così ti voglio Zio, vai tranquillo Ah, ok, io so il due Perfetto Oh, che bello che uso anche il rosso Che è il mio colore a cui sono abituato solitamente È proprio il suo colore Voi nei Mario Eccolo là Dai, Lionello, però corri a due allora, cacchio Attenzione Ma no, che cazzo fa? Ti volevo procedere il primo colore Ho capito, ma secondo te io me l'aspetto una colore del genere Ma cazzo, ti ho liberato lì tranquillo Ok, non guardo neanche più Ha fatto gol Mi fa ste cose Eh, 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 iniziamo Inizi, sei tu che inizi Eh, se la ride Bello Ah, vabbè, ma tranquillo Ah, 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 siamo pari, eh Siamo pari qui E cosa? Ragazzi, io non te la passo più al centro Perché se no inizia a passarla a gente a caso E non so che fa Attenzione No, comunque questo qua fa i cambi perché pensa di svoltare la partita con i cambi Attenzione Ah Hanno svoltato, hanno svoltato Dai, Food Champions, Food Champions Vabbè, dai Gol della merda Gol della merda Ma questo è Food Champions style Sì, per forza Ormai bisogna trovare il metodo per segnare tutti i modi Comunque Suarez io quest'anno lo adoro Gente non gli piace Io non so se tu hai mai provato No, no, sono un povero di merda Io c'ho Dibale e Guain nell'altra squadra Quindi Dibale 89? Eh, no, non c'ho Sono un poveraccio Lasciami perdere Aspetta, fammi vedere Sì, zio, ha buggato la partita Vedi che non mi fa più le finte Vedi che questo qua è uno scroll Mi va del laterale Ma perché fa ste cose sulla play? Ma non hai il joystick? No, no, zì, perché non lo fa solo a me Vedi, non mi fa più neanche Gli L2 e R2 non vanno È andata È andata E l'abbiamo persa, quindi Ma perché fa ste cose a caso? Mi devo giocare semplice senza poter fare niente Gioca facile, mister Pausa Così Ma loro? Sì, sempre loro A vero Oh, così Cioè, iniziamo con un rage quit Eh, vabbè Ma stiamo scherzando Proprio così Proprio lui Allora Perfetto Ragazzi, siamo tornati soltanto con l'audio Ti invito io alla partita? No, devi entrare nella roba che sto suicando Ah, già cerca Ok, vai Ricerca di un avversario Coz, già trovato Attenzione Credibile Beh, comunque Primo match subito così Troppo Easy, pisi Non parlare così Prima che succedano cose Sai che sono un minimo scaramantico Pochettino Pochettino Ma adesso il pad va? No, ma lo Si bugga a metà partita a volte Perché anche prima hai visto che due finte le ho fatte Poi ha smesso di farle Questa è piuttosto Dipende Stada facendo Eh, Real Madrid Prendiamola meno Meno seriamente No, più seriamente Partito E' partito, è partito L'avevo passata C'è Ronaldo fa il terzino Grinarmi, eh Molto bella Molto bella Uuuuh Eeeh Qui giocatore Incredibile Longo Ma perché sono anche io a giocare Che tanto se la passa da solo Io volevo Volevo uno scorpione Da parte tua Ma su Arezzo Non ci ha pezzato minimamente Non ci ha addormentato Non c'era proprio voglia Ha detto No, no Stavolta no La prossima volta Non so cosa sia successo E tu Ma ha tolto l'indicatore Non capisco Ma sto capendo Vai, vai, vai Stavolta Eeeeeh Non ti aspettavi Eh Oh Raghi dice Però ci mostra sempre ottimi gol Ammettiamo Bel gol Bel golletto Una fucilata Pazzesca Ha caricato la bomba della vita E bang Adesso però voglio il tuo gol Io faccio da assist man in questa serie Comunque lo sappiamo tutti Infatti la dobbiamo rinominare Gli assist di J. Ron Oh, io devo andare a pure palla Certo che Vai Vai, vai Facci sogno Voglio il dribbling Io me ne vado Me ne vado proprio Eh, mi falcia Eh, però adesso puoi tirare una punizione Eccelsa Eh, se la ti lo faccio gol Guarda Ah dai Con chi la ti Niente Suarez forse no No, non matava Come Va lui Gigi Suarez Gigi Suarez Ma raga Ma che Che sto giocando a fare Raga Voglio dire Oggi ho il piedino caldo Piedino caldo per l'Hornwolf Incredibile Inarrivabile La punizione Mistica Ciao bello Ci si vede Insezione Ciao bello ci si vede No, me ne vado Me ne vado Ciao bello ci si vede Mamma mia Non me la passare Ambe Ambe Oh la Oh la Ci rimette la sua firma Oh la Dai Sembrava Alberto Tomba Dei bei tempi Eh, a zigzag a caso Proprio sciatore vero Slalom Eh, eh, eh The goal No Si ha riprovato L'uomo dei pallonetti Impossibili Ci è andato vicino Per la seconda volta Corraghi Eh, 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 continua Eh vabbè Eh raga è infermabile Ormai se ti sta divertendo È un bambino Con la palla Nell'oratorio Io voto pure per 9 Una vera challenge adesso Piuttosto a pagare 9 Eh, vediamo Se te ne vedi a scattarti anche la linea di fondo E' così Dai Neymar non stopparla Lascia la scuola questa boccia Eh, 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 eh Eh, vabbè Tutti giù per terra Però Eh, vabbè Basta Rega Io me ne vado Vabbè Rega Oh, sto partito Buonanotte Buonanotte Rosso Meritava questa Eh, meritava sì La parte più bella è scivolata di tutti e due comunque Tutti giù per terra Eh, attenzione La pressione è tutta Tu c'è il puntatore però No Non c'è il puntatore Non c'è signori Però lui Eccolo lì Bellissimo Lionel Messi Tranquillissimo Uncherone Senza pressioni Ormai anche lui è competitive Ma mica tanto zio Se vai a vedere il campionale E' nato che sto facendo su me la cosa Ogni parità c'ho tipo Sudo quattro camice Ma non era male Pressing Forse è nato No Sì Sì Segna, segna Sì Il gol Voglio il gol E sono sei Sono sei Roger Federer Eh, vabbè, vabbè Ma dai Questo è un eroico Sì, sì Sì, sono proprio Gente Gente coraggiosa Nel senso Stimabili Bello Bello Ehi Mario Oh Ci abbiamo tutto il tempo Per cambiare il record Iniziamo a farne nuove Allora A questo punto Ce la ridanno Dicano Vabbè Riprovati Fair play per loro Adesso cambia la nostra modalità Modalità super goal Non c'è arrivato Non c'è arrivato Dai, allora Te rifaccio Faccio goal Vai E nove L'abbiamo preso E l'abbiamo fatti Pazzare Però c'è questa qui Era cattiveria per l'editing Mettiamolo Taglia un po' Clicca un po' di S Sul Programma Fa un po' di fatica Cazzo Metti anche delle canzoncine divertenti Ogni gol Ogni gol Una canzone differente Dai, vai a fare Il nuovo Adesso 12 in soltanto 13 minuti di gioco È difficile Cioè, dobbiamo fare altri 3 gol Stai alzando la media In un modo impossibile Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Mi parte il contropiede Tutti contro No Ho sbagliato, raga Ho sbagliato un botto Non sapevo dove andare Mi faccio perdonare E' buona Facci sognare Non esce il portere Oh, e c'è va uno Attenzione, signori Solo due gol Andiamo in ultra-offensiva, zio Sì, per fare due gol Dobbiamo pressare Pressing alto Yeah, la rubiamo Ripartiamo Oh, è buona È buona È morto, Messi Oh, sì Oh, sì Ho sbagliato Sette minuti Sette minuti Per tentare Androce Eh? Pure loro stanno tipo In ultra-offensiva Nooo Nooo Disperazione per l'11-0 Cazzo Non sei mai visto Due persone disperate Per non aver vinto 12-0 Vabbè, è l'inizio Avremo modo di prendere schiaffi In futuro Quindi, regà Arriviamo a quanti mi piace Decidi tu Eh, non so come sia lo standard tuo Spara il tuo numero 3.000? Magari Comunque 3.000 mi piace 3.000 ragazzi 3.000 facciamo un episodio Settimana prossima Diretti subito partiti Volati Ecco, infatti Ecco, arriviamo a 3.000 mi piace Regà Io ringrazio Matteo Ricominceremo ovviamente Fino alla divisione 1 Magari saltiamo qualcosina Se ci prende a giocare da soli Tipo, magari le prime Quelle un po' più facili Potremmo pure saltarle Che dici? Vabbè, vediamo Vediamo un attimo Tanto 3.000 like Poi valutiamo Tanto 3.000 e poi valutiamo Quindi, bella ragazzi E al prossimo video Ciao raga